Musica Scanner Qua Ah no Scannerisiamo Tutte digitali Scansione dimmi Ok ok c'è la barra di scansione Fatto Pista forse Sono sulle tracce della dottore Saiyang Ho dovuto impostare lo scanner per visualizzare le impronte più recenti Se le seguo riuscirò a trovare gli appunti Spero che funzioni Per tua informazione la polizia ha trovato una delle bombe di Joker in centro Era carica di marzapane e gattini Come sospettavo Un'altra delle sue tattiche diversive L'azione vera è in scena ad Arkham Ok Dovano seguire le tracce Le tracce Le tracce Le tracce Le tracce Andate da qua Andate da qui non possiamo passare Forse si Ma non possiamo passare Intanto qui io prima ripassando Ho trovato Dei ratti morti che si sono mangiati tra loro Che bello Che bello Ciò che aveva ragione E' qui Salve Buonasera Vedete che avete sentito della festa Peccato che siano finiti i posti Mi dispiace tantissimo Tutto bene bello Tutto bene bello Tutto bene bello E' qui Ho giocato ad Arkham City Di secondo i tè C'era gente peggiore Eccati uno schiafo sulla spalla Oh mio dio Oh mio dio Ok Non guardiamolo più Pista Uh è andata di qua Bene Eccati uno schiafo sulla spalla Eccati uno schiafo sulla spalla Eccati uno schiafo sulla spalla Credo che noi dobbiamo andarci Dobbiamo andarci dall'altra parte Pista prosegue di qua Il ciclo va a sinistra Lei va dritto E qui siamo Abbiamo fatto tutto il giro Quindi stiamo andando di qua Vabbè è scesa dalle scale E poi E poi Sì vabbè No non voglio No non voglio Sti Ti vedete Ecco usciti C'è solo qua E poi Ah no ok Bisogna seguire un senso Questa parte Questa parte Questa parte Posso mi sentire Toccare in giro Qualcosa Sì 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 Ho capito che posso andare sul guard oil Ma Ok Ce n'è una Ok E' andata di qua Qui c'è la biblioteca Se non sbaglio Sì Dove c'è il cestino da calcio Ciao cestino Scusate Sì è andata nella biblioteca Ok Sì Ho fatto tutto il giro solo per sapere il calcatello Venga Poi ci sono i due ancora Ci sono 10 miliardi di grate che non andrò ad aprire Ok 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 Bene Torniamo tutto il giro Vengono qua sotto Dopodichè Qua Cerca Scosti in questo libro Anche sporgente il libro no? Non potevi Oracle Ho trovato la formula della dottoressa Young Molto bene Bravo Bene Significa che sei riuscito a fermare Joker Non è mai così semplice con lui Classico Bruciamo Molto bene Che cos'hai di Batman? No La formula no Adesso che cosa faccio? Chi può aiutarmi? Assunta a ridere Come dici? Il nostro buon Matt Gunnernast? Hmm L'ho ricontrato mentre tornavo dal giardino Dove ha sicuramente che Niente di scena una delle sue idee Orte Forse lui può farla parlare Sì Credo di sì Bell'idea Batman Scema L'ufficio del direttore Ehm Dov'è l'ufficio del direttore? Ma qua non disponibile Che dovrebbe essere? No no di nuovo lo spaventapasseri Questa non è la stanza di polimere Decisamente c'è tornato lo spaventapasser Non posso credere che tu abbia voluto rivedere quel film Andiamo Alfred ci sta aspettando Scusa papà Non esagerare Tom Gli è piaciuto così tanto Alfred ti aspetterà Andiamo Bruce Lui da bambino Ah credo sia la notte in cui sono morti fuori Un altro cestino da carico Un altro cestino da carico Dove ci stai portando? Possiamo tagliare da questa ma Ma inizia a piovere Bruce è stanco Non possiamo aspettarlo qui Forza arriviamo Ci siamo qua Ah quindi sono loro stupidi Con l'accidenti Se volete sapere a soli Quindi Devi aspettare altro Valtala signora Oddio Per favore Che bisogno c'è? Fermo dove sei ospa Ti faremo tutto Papà Tom Oddio Oddio Tom Caci bene Spazi Dammi te Sta lontano da me Scappa Bruce Papà Quindi stati uccisi Prima Un viper E' il simbolo di Batman Ecco com'è nato Batman si abbiamo capito adesso ti puoi andare avanti con il gioco forza da questa parte sediti nel mio ufficio sta bene un ragazzo così con tutti quei soldi vuoi che non stia bene taci dai ha solo otto anni è già solo i soldi non sistemano sarà come dicevo sta arrivando il maggiordomo a prenderlo capito ha un maggiordomo mi dispiace devo solo farti alcune domande posso offrirti qualcosa stai bene so che non hai voglia di rispondere ma è l'unico modo se vogliamo prendere il colpevole perché l'ho fatto signore perché non lo so succede in città c'è qualcosa di storico ascolta chiamami genio ecco qua te pareva ciao spaventapasseri attiva la vuta bene tutto opposto si bel pusticino 100 parlete di che cosa è stato con le mani sempre è lo stesso tipo di gioco ok si non ho visto adesso sei mio e dopo la paura l'obbligo ok adesso ho capito ho capito come fare e fin qui ci siamo e dove caccia proprio una selezionazione a non se ne ha fatto ti spezzo non sei il russo di copi 4 è zitto ti spezzo adesso passa cicci cosa è così scemo da non guardare dietro le scantole non utilizzats togare prima non se ne ha fatto fa contenta non anche il ruot è preciso personne è non si così state come scavolo siete questo è figa questi scheletri il delay della prospetto di solito da un volto ora girati bravo la tua mente andrà in franto guardate a un capio è dei mucassi ah no è del bende si oh paga non stavolo stavolo non sentirei hai fallito soffrirei quanto rompe sto tizio qua però adesso non finisco l'episodio che non finisco l'episodio anche da qua da qua è tu che non si capisce che non si capisce dove ti vede e dove no quindi qui ci siamo che qua dietro non ci vede vai vai stavolo stavolo ma dai non sentirai male ma ma no davvero davvero mi devo nascondere non ci sarei mai arrivato gioco gioco poi è magro contro un ongolo aspetta che questo episodio sarà leggermente più lungo del solito perché devo ammazzare questo tizio qua e no caro mio stavolta sto qua dietro tizio qua poi c'è tanto c'è il bat segnale sali batman sali questo adesso si vede no 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 ok non è così facile tutto quello che vedi è sotto il mio controllo grande Batman grande Batman scendi scendi la tua mente andrà in frantù che cosa è stato tutto il tiro A me è una bombacca dove si siano fatti un po' più bello in questa si può andare via d'acqua guarda 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 ma la ma ma passato oh maledetto tutte volte saremo ci fermiamo ora eri dove c'è il pendolo salta non voglio tagliare fino alla fine non voglio tagliare bravo batman no giù batman giù giù tantissimo abbiamo quasi finito non 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 Grazie a tutti. Non frega niente Guarda questo Oh mio dio come siamo arrivati qua sopra Oh mio dio Ecco perché erano tutti quegli orologi Ragazzi io direi che questo episodio può finire qui Scusate l'eccessiva lunghezza E vi ricordo di iscrivervi al canale Guardare gli altri video, commentare, condividere Mettere in piace sia questo video che alla pagina di facebook Ragazzi da MatoB120 è tutto Ciao a tutti e al prossimo video